Esistono diversi tipi di computer quantistici, anche molto diversi tra di loro, ma tutti si basano su alcuni principi fondamentali della fisica quantistica come il principio di sovrapposizione oppure il tunneling. Questi principi permettono ai computer quantistici di avere delle velocità di elaborazioni molto più alte rispetto ai computer tradizionali. La memoria di un computer quantistico è organizzata in piccole celle che sono chiamate quantum bit o qubit. Grazie al principio quantistico della sovrapposizione, un quantum bit può memorizzare un'infinità di valori compresi fra 0 ed 1. Questo permette di esplorare in un singolo passo di elaborazione un numero molto molto grande di possibili soluzioni. Il secondo principio importante è quello del tunneling. Per un qualsiasi tipo di computer cercare la soluzione ad un problema è un po' come guidare un esploratore alla ricerca della valle più profonda in una regione montuosa. Il computer tradizionale quando raggiunge il fondo di una valle è convinto di essere arrivato nel punto più profondo ma può essere che al di là della montagna si trovi una valle ancora più profonda. Questo il calcolatore non lo può sapere se non scalando la montagna ma questa operazione richiede tanti passi di esplorazione. Un computer quantistico quando arriva sul fondo di una valle può istantaneamente creare una galleria o tunnel che gli permette in un solo passo di elaborazione di andare dall'altra parte della montagna per scoprire cosa si trova. Per poter operare in modo efficace è necessario avere delle basi importanti di matematica per avere gli strumenti per capire la fisica quantistica, ad esempio competenze di calcolo tensoriale, di probabilità e di statistica. Un computer quantistico deve lavorare a temperature che sono al di sotto dei 270 gradi sotto zero, quindi è molto importante avere le basi di ingegneria che permettono di comprenderne non solo le potenzialità ma anche i limiti. Per poter programmare in modo efficace un computer quantistico è importante avere anche delle basi nel campo dell'informatica perché la realizzazione di algoritmi per computer quantistici è una sfida molto importante. Negli ultimi anni ci siamo abituati ad assistere a rivoluzioni nel campo dell'informatica, soprattutto nel campo dell'intelligenza artificiale. Il computer quantistici nei prossimi anni ci permetteranno di assistere a cambiamenti ancora più incredibili e vedremo applicazioni fino ad oggi impensabili.